Onito, mi raccontavi poco tempo fa di quell'emozione grandissima di segnare l'ultimo minuto contro la Juve, il 2-2 di testa, e oggi cosa mi racconti? Un déjà vu? Molto contento, sinceramente sognato, perdevamo 2-1, Rafa pare a rigore, Luca segna per la classifica marcatori, io faccio il gol al 93 come l'anno scorso, è un'emozione incredibile, non sapevo cosa più fare. Un'emozione è stata quella che avete dato voi durante tutto il campionato, perché oggi si chiude una stagione comunque alla fine molto positiva per Verona, e direi molto positiva anche per te. Sì, sì, è una stagione positiva, volevamo chiudere bene, il meglio possibile, ci siamo riusciti. Ci sono stati momenti di difficoltà, dove magari tanti momenti duri così, però siamo stati bravi a venire fuori, compatti insieme col gruppo, e verso la fine abbiamo fatto delle partite belle, dei risultati belli anche contro grandi squadre, quindi siamo molto contenti dell'annata. Dimmi la verità, questo gruppo se potesse giocherebbe tutto contro l'Inter stasera per non far segnare i cardi, perché avete aiutato in tutti i modi Luca a segnare, ci siete riusciti, quindi adesso siete pronti a giocare contro l'Inter? Sì, sì, oggi saremo lì a bloccare tutti i tiri che farà Icardi, saremo lì a respingerli col pensiero. È stato un bellissimo pareggio e anche un bellissimo saluto per Sean Sogliano che se ne va dopo tre anni. Sì, sì, ho sentito in settimana che il direttore hanno preso questa decisione, siamo contenti di tutto quello che ha fatto per noi, per la squadra, per l'Ellas, e auguriamo che lui possa fare bene ancora dove andrà, è un direttore che ha dato molto alla società, alla città, e quindi le migliori cose per lui. Hai salutato nei migliori modi i tuoi tifosi, perché ormai sono anche i tuoi tifosi. Sì, sì, l'ultima in casa con la Juve, fare un gol così, non perdere, penso che abbiamo lasciato un bel ricordo per tutta questa gente.